Riesco a vedere tutto davanti a me. Non andrà lontano. Bev, mi serve una mano qui, porta una parella. Ora calmati, calmati! Dove l'hai trovato? Mi serve assistenza, un codice 3. Daniel, Daniel, Daniel. Chi sono quelli? C'è qualcosa che li ha attirati fino a qui. Ho già visto questo posto. Ogni cosa ha condotto a questo. Diventerai qualcosa di davvero incredibile. Uccidevano, facevano sacrifici. Cambiava quella gente. Nulla ha più importanza ora. Non è reale. Non è reale. Non è reale. Questa non è la fine. Statisticamente hai più probabilità di morire in un ospedale che in qualsiasi altro luogo. Giardino. E' un altro video.